L'economia digitale è uno dei settori strategici del governo russo per rilanciare l'economia stagnante, tema ampiamente discusso al Forum Economico di San Pietroburgo. Tra gli obiettivi del 2024, infatti, troviamo la modernizzazione delle infrastrutture, l'introduzione di pratiche digitali nei settori chiave dell'economia e della pubblica amministrazione. Quali potrebbero essere gli effetti nel settore IT in Russia? Euronews l'ha chiesto a Svetlana Balanova. In Russia molto dipende da come lo Stato si approccia all'economia, cosa bolla in pentola nell'agenda dei vertici dello Stato. D'altra parte è anche molto importante che la digital economy non diventi terreno in cui soltanto la proprietà statale abbia un ruolo, perché dopo tutto il settore informatico è un mercato competitivo e le migliori tecnologie sono ancora prodotte dai privati dove c'è una lotta feroce. Allora, l'IT è un mercato concorrente e le migliori tecnologie stanno costruendo più oltre dagli stati giusti e concorrenti. Putin vuole che il PIL delle piccole e medie imprese, che hanno molti problemi, aumenti dal 20 al 40%, obiettivo che ora sembra non essere realistico. Nadia Cercasova, una delle più influenti donne d'affari in Russia, che nel 2007 è entrata nella lista delle 35 donne di maggior successo al mondo, pensa che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere la prima cosa a cui pensare quando parliamo della piccola e media impresa. Tra i top manager del mondo, al terzo posto c'è una donna, ma allo stesso tempo siamo solo al 56esimo posto nella classifica imprenditoriale. Quindi dobbiamo tutti quanti prendere posizione e aiutare le donne a sviluppare il loro business. Quello che emerge è chiedendo alle stesse donne che vogliono lanciare un proprio business, e che prima di tutto le barriere principali sono la conoscenza e l'istruzione, mentre per gli uomini il problema è la mancanza finanziaria. Il ribasso della crescita del PIL russo nel 2019 indicato dalla Banca Mondiale, secondo gli esperti, ha diverse cause, come l'avvenuta riduzione della produzione di petrolio e le forti sanzioni di Washington.